ragazzi vigilia di salernitana juventus una partita nella quale non mi sarei mai aspettato di ritrovarmi qui a preoccuparmi letteralmente a preoccuparmi perché quella di domani sera è una partita che si te dici vai a giocare trasferta contro l'ultima squadra in classifica in serie a se la juventus è loro sulla salernitana e quindi bisogna rispettare la salernitana perché questa juventus ti ha dimostrato che non importa l'avversario che c'è dall'altra parte perché si può vincere con tutti e anche a fatica perché difficilmente si è vinto quest'anno sei vittorie in serie a quest'anno praticamente tutte con un gol di scarto se non il 2-0 a Lazio e si può perdere con tutti anche in casa davvero tutte le squadre vengono a torino a giocarsi il risultato e ha parlato allegri pochissimi minuti fa al termine della conferenza stampa che potrete leggere su one football l'imper scaricare one football è qui sotto in descrizione mi raccomando fatelo perché è uscita anche una notizia che per il momento io non andrò a commentare perché come sapete voglio aspettare qualche elemento in più ma per seguire la vicenda riguarda ancora il discorso plus valenze dato che c'è questa nota ufficiale in cui si parla eventualmente di retrocessione revoca degli scudetti ripeto io per il momento non ne parlerò lascio a voi tutta la vicenda lascio a voi l'informazione su one football tramite gli articoli che ci sono io in questo momento preferisco parlare del campo sono più concentrato sul campo nella mia testa c'è la partita con la salernitana sono più preoccupato per il campo perché per la questione legata alle plus valenze che ha citato anche allegri nella conferenza stampa one football gratis qui sotto in descrizione e passiamo a parlare di massimiliano allegri che ragazzi è utile prenderci in giro le sto ascoltando tutte le conferenze stampa di allegri e sono d'accordo quando mi dite quando leggo o quando io stesso le ascolto e penso che cosa stai dicendo max certo che che lo stiamo pensando sentire che alexandro a londra ha fatto una bella partita è assurdo sentire che a londra per 65 minuti abbiamo fatto una buona partita è assurdo oggi è tornato sulla partita con l'atalanta e ha detto che non è stata fatta una brutta prestazione io lì sono d'accordo perché secondo me la partita con l'atalanta non è stata la peggior partita dell'anno e anche quando mi va a parlare di morata e mi dice che non ha fatto la peggior prestazione dell'anno anzi è stata una delle migliori forse per il discorso legato alla squadra anche qua posso essere d'accordo ma nelle pagelle io a morata ieri gli ho dato 5 e allegri dice che secondo lui c'è un accanimento su morata e può anche parzialmente essere vero in questo momento ma c'è un ma c'è un però e secondo me non si ferma solo morata perché il 5 di morata che ho dato ieri nelle pagelle nasce da una cosa che nel gioco di squadra che è stato richiesto a morata proprio nella partita con l'atalanta dove nel primo tempo è il terminale offensivo della juventus e gioca di sponda quella palla male perdendo il possesso regalando l'atalanta dove poi nasce il gol e che ragazzi se una partita finisce 1-0 quell'episodio non lo puoi ignorare perché alvaro morata quando hai palla a te la regala agli avversari e prendi gol per quello quindi per forza di cose diventa un problema valutare in maniera assolutamente positiva la partita di morata che ripeto secondo me non ha fatto nemmeno una partita tremenda però poi torniamo al discorso della critica legata a massimiliano allegri di cui abbiamo ampiamente parlato nelle ultime 48 ore anche sui canali di chinosci di colpo gobbo abbiamo fatto veramente un sacco di video insieme in questi due giorni che morata non può essere lasciato la da solo 60 metri dalla porta giocare sempre spalla alla porta a giocare sempre sportellate sempre a faticare ed è qui che allegri giustamente dice è gli altri anni però alvaro morata ha sempre fatto dei gol sì ma non inizierà a farli magicamente perché diventerà super specializzato nel fare un compito che non è suo non gli appartiene o comunque fa fatica perché in questo momento possiamo metterci chi vogliamo io ieri vi dicevo se fosse stato cristiano rondo la juventus ve lo immaginate ronaldo giocare spalla la porta e fare lo stesso lavoro di morata poi sicuramente ronaldo avrebbe segnato più gol perché un dato di balzarini che porta in conferenza stampa è abbiamo segnato un gol e mezzo quest'anno di testa mccenni e ken e mezzo perché è un rimpallo diventa ancora sulla testa di ken e questo è un dato noi andiamo sul fondo crociamo e non c'è nessuno io adesso voglio fare due parallelismi con l'anno di pirro dell'anno scorso dato che in questo periodo si sta parlando tanto di pirro del fatto che non doveva essere esonerato perché è sempre normale no quando poi le cose vanno male nel presente vai a prendere il passato e dici chissà il passato com'è stato l'anno scorso uno degli schemi principali che avevamo era palla quadrada sulla destra cross al centro dove c'è cristiano ronaldo se cristiano ronaldo lo apprende fa gol bene se cristiano ronaldo è marcato può arrivare morata può arrivare mccenni che sono bene o male i giocatori che andavano a riempire l'area di rigore eccoci qua questo era lo schema principale l'anno scorso con cristiano rondo che risolveva i problemi ma al di là dell'aspetto tattico tecnico che lo voglio lasciare da parte voglio concentrarmi sulle conferenze stampa perché una delle più grandi critiche che è stata rivolta l'anno scorso ad andrea pirlo è sempre stata quella di arrivare in conferenza stampa pre partita post partita vittoria sconfitta sempre con lo stesso umore senza mai mostrarsi arrabbiato senza mai alzare i toni senza mai alzare la voce e tanti continuano a dire ma ce li ha le palle pirlo perché pirlo arriva sempre in conferenza stampa e sembra che vinto perso non fa differenza la risposta ce la dà all or nothing e lo abbiamo visto chi ancora non ha visto all or nothing magari salti questo pezzo da adesso in poi spoiler ma pirlo tutte le volte che entra in uno spogliatoio anche a fine primo tempo che la batte di testa gli dava ai giocatori a chiesa addirittura in finale di coppa italia ha detto federico non stai giocando fino adesso non hai giocato chiesa scende in campo prende un palo e poi la risolve tante volte pirlo alzava la voce nello spogliatoio e bacchettava i calciatori poi davanti alla telecamera aveva tutto un altro atteggiamento ora che sia giusto o sbagliato io questo non lo so semplicemente perché ogni allenatore ha il suo modo di intendere il calcio comunicare con la stampa e comunicare con lo spogliatoio io sono sempre stato abituato che le cose vere si rica nello spogliatoio nella mia scarsa scarsissima esperienza di calciatore a bassissimi livelli tutte le volte che c'era da analizzare qualcosa lo si faceva in campo l'allenamento dopo la partita o nello spogliatoio a fine primo tempo fine partita dove c'erano delle voci grosse dove si urlava dove si dicevano anche cose che magari non ti stavano proprio simpaticissime e io voglio sperare che allegri oltre alla carota in conferenza stampa da alexandro dopo una partita clamorosamente disastrosa di alexandro a londra e con murata oggi che si fa una partita ok ma non tira mai in porta è l'attaccante titolare della juventus non sei in campionato da settembre ha fatto quattro gol in campionato fino adesso ha sbagliato quel passaggio da cui è nato poi il gol dell'atalanta carota in conferenza stampa ad alvaro morata ma poi bastone in allenamento ad alvaro morata perché questo io io non voglio fare i processi le conferenze stampa non mi interessa semplicemente ma poi sono tifoso come voi è certo che le penso certe cose è certo che penso diavolo allegri come puoi dire una roba del genere poi allegri dice anche è ormai un processo nei confronti di morata secondo me questo processo nei confronti di morata nasce dal fatto che alvaro viene messo in una condizione non idonea a esprimere il proprio potenziale perché lo ribadisco ancora una volta io non ho problemi a dirlo secondo me morata è un ottimo attaccante non è un top player non è attaccante da 20 gol alla stagione non è non può essere l'attaccante titolare della juventus ma rimane un ottimo attaccante che si viene utilizzato in un contesto sano e anche di competizione interna perché questo aiuta tanto i giocatori a non sedersi può essere stimolato a fare molto bene perché morata secondo me in tutti gli anni alla juventus ha dimostrato qualcosa tranne in questo dove gli viene richiesto troppo perché non è quel tipo di attaccante non è uno che fa reparto da solo non è un trascinatore della squadra è molto emotivo e lo sappiamo e forse anche per questo che allegri in questo momento stia usando molto la carota ma allegri stesso non può dirmi che si deve essere soddisfatti del rendimento che c'è stato fino adesso da parte di alvaro morata e tante responsabilità del rendimento di alvaro morata sono dello stesso massimiliano allegri che in questo momento non lo sta mettendo nelle condizioni di fare bene e sfruttare le sue caratteristiche perché le caratteristiche di morata non sono queste non mi sto anche mai di dirlo e finché verrà utilizzato in questo modo se mi sento in dovere in diritto di criticare sia morata per le prestazioni che per forza di cose non può fare bene perché non è quello suo modo di giocare sia allegri per come lo sfrutta ora io non so se domani ci sarà alvaro morata dal primo minuto se ci sarà moese ken se ci sarà caio orgi non ci sarà mattia sassoulet che allegri si è detto domani ce lo porti dietro ma non parte dall'inizio non ne ho idea non ne ho idea ed è logico che quando uno sente in conferenza stampa da parte di allegri e morata li ha sempre fatti che gli ha sempre fatti di bari li ha sempre fatti quelli che gli ha sempre fatti inizieranno a farli uno pensa sì inizieranno a farli se verranno messi nella condizione di farli manualmente continuando così non si va avanti continuando su questa falsa riga non si va avanti allegri lo sa che si sono fatti pochi gol quant'è che andiamo avanti a sentire allegri in conferenza stampa che ci dice sono stati fatti pochi gol però se pretendiamo che dall'oggi al domani dal nulla così a caso morata ken kuluseski di bala chiesa inizieranno a macinare milioni milioni di gol perché inizieranno a prendere palla e scartare tutti i giocatori da soli e ora forse ci stiamo immaginando un film stiamo volando con la fantasia perché anche quello che dice allegri che lo so che sarà criticatissimo su questa frase questa rincorsa deve diventare anche bella e me lo auguro che diventerà bella perché fino adesso è stato tremendo fino adesso è stato un film horror e se in tutti questi anni le juventus partivano bene finivano male per una volta spero che si possa partire male malissimo tremendo peggior momento gli ultimi dieci anni per finire in maniera dignitosa perché noi ora stiamo vedendo delle squadre nei primi quattro posti che sono lì e sono lì giustamente e che noi non ci meritiamo assolutamente di essere là all'altra parte vedo la roma la lazio la fiorentina il bologna l'ellas che sembra una squadra a nostro livello noi ad oggi siamo una squadra che se la deve giocare con queste altre qua per guadagnare dalla quinta posizione in giù se batti queste qui e se fai meglio di queste qui arrivi quinto ad oggi se continuerai a far bene perché nelle ultime nelle prossime cinque partite tu devi prendere 15 punti in serie a ed è inutile che che ci giriamo intorno a questo dato qua perché tu ne hai già buttati via troppo e non prendere 15 punti nelle prossime 5 per quanto complicatissime a partire domani sera a salerno se non ne prendi 15 e chiudi baracca burattini perché caro il mio ottavo posto in serie a perché siamo ottavi è vero che siamo sesti dietro la roma che bla 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 parire gli altri però in questo momento siamo ottavi se non prendi 15 punti c'è la nona c'è la decima c'è l'undicesima la dodicesima la tredicesima si può andare giù fino alla 20 eh si può andare giù fino alla 20 perché quando sento che questo campionato di serie a per la juventus è già finito no no e no dire che questo campionato è già finito significa accettare che questa sia la normalità questa non è la normalità per la juventus questa non può essere la normalità e nelle situazioni più complicate e per la juventus questa non è appunto una situazione di normalità e quindi una situazione estrema è giusto e logico che vengano criticati i calciatori poi qua possiamo aprirci e gli allenatori e la dirigenza perché non si salva nessuno dicevo ieri eh tutti in discussione qui apro una parentesi legata ai fischi che sono stati rivolti a Morata Bernardeschi nell'ultima partita con l'Atalanta ora io sono dell'idea che se un tifoso paga il biglietto ha pieno diritto ad applaudire o a fischiare a seconda di quello che vede poiché sia giusto o non giusto non lo so dipende anche dal momento in cui sei lì sinceramente non so se avrei fischiato i giocatori in questione dipende dal mood quando vai allo stadio è un mood differente cioè è inutile che ci prendiamo in giro chiunque è stato allo stadio e chiunque ha visto una partita da casa sa che si vivono in due maniere completamente differenti e quindi sarebbe anche ipocrita da parte mia dire lo avrei fischiato al 100% o non lo avrei fischiato al 100% ma il fischio è il sentimento più vero che un tifoso può rivolgere ad una squadra nelle quali ha grandi aspettative e che la stessa squadra non sta ripagando nemmeno lontanamente quelle aspettative quindi ripeto non voglio essere ipocrita non voglio sbilanciarmi scusate su questa questione qui però il processo alla conferenza stampa senza sapere cosa c'è dietro non ci sto se poi verrà fuori un horror noting o delle intercettazioni telefoniche dello spogliatoio perché ormai mi aspetto di tutti dei video in cui vediamo a fine partita col Chelsea Allegri che fa i complimenti a fine partita l'Atalanta che a carezza Morata dice perfetto sei stato il migliore in campo oggi e allora mi girerebbero i coglioni perché a lopo Allegri nella conferenza stampa dice o sono io che non capisco niente o sono loro che vedono una roba diversa fermo restando il fatto che in questo momento secondo me in una condizione normale Allegri sarebbe da esonero e non mi vergogno a dirlo e non mi tiro indietro nel dirlo ma che per via di un discorso finanziario complicato e di un contratto fatto lungo ad Allegri e aggiungo il filo rosso che secondo me in questo momento unisce la presidenza di Agnelli e la panchina di Allegri perché è il quarto anno di scommesse in cui la dirigenza si ritrova a scommettere su un allenatore che poi dovrebbe portare risultati senza mai toccare la squadra in un certo modo perché magari sono finiti i soldi e quindi un altro fallimento quindi un altro esonero andrebbe anche ad allontanare la dirigenza e questo sottolineiamolo perché in questo momento Agnelli e Allegri secondo me sono un po' come Junior e il Supremo se muore uno muore anche l'altro se in questo momento siamo messi così è colpa di tutti è colpa di tutti e non possiamo puntare il dito sul singolo e sono convinto che per uscire da questa melma per non dire altro ci sia bisogno di ricreare l'ambiente giusto per la Juventus e cioè cioè qual è l'ambiente giusto per la Juventus e ricominciare a vincere già da domani perché i risultati ti portano poi un po' più di consapevolezza se non fai risultato domani con la Salernitana non devo dirvelo io veramente non devo dirvelo io